Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio dedicato a Victoria 2, aprile, 16 aprile, 1863, l'Italia sta ricercando delle nuove forme di Stato e Governo, questa è la nostra impresa al momento, ma poi ci sposteremo dalla cultura all'industria nuovamente perché cercheremo di strutturare in modo definitivo la nostra economia in modo da poter gareggiare con le altre potenze mondiali. Se adesso diamo un'occhiata a Roma, vedete che la popolazione cresce vertiginosamente, vabbè il life rating di Roma è 0,05 ma la tecnologia è 0,06 quindi quasi raddoppiamo e questo nel tempo si farà sentire. Adesso andiamo sul commercio perché voglio vedere se andando a lavorare alle Organized Factory Late Classical Theory, di queste costano poco come tecnologie ma ci permettono di avere un'efficienza industriale. Intanto i socialisti iniziano ad avere un certo appoggio a Cracovia e poi ci sono un paio di crisi che sono state messe, diciamo così, in soffitta nel corso dello scorso episodio. Le abbiamo viste generalmente Francia e Impero Ottomano che bisticciano con la Grecia e la Russia che a volte supporta da quelle parti. Ora abbiamo un focus in più, andiamo sulla produzione per vedere quali regioni potrebbero beneficiare. La campagna deve lavorare ai colletti bianchi, così come il Piemonte. La Lombardia sta incoraggiando i lavoratori operai, il Piemonte sta incoraggiando i colletti bianchi. A questo punto direi che potrebbe essere un'idea quella di prendere una terza, una quarta regione, chiedo scusa, abbastanza popolosa. Puglia potrebbe essere un'idea. Andiamo a vedere, scusate, in popolazione più semplice. Venezia, Toscana, Sicilia, Puglia. E andiamo a incoraggiare la mano d'opera in Puglia, visto che ci sono delle fabbriche di vestiti di lusso. Intanto qui abbiamo terminato la seconda flotta, che andiamo a mettere insieme alla prima, a Genova, a questo punto. I 4 focus non sono affatto male. Intanto abbiamo ripreso a migliorare le relazioni con la Svezia. Evitiamo, cerchiamo di prendere sotto il nostro controllo il Cile il più in fretta possibile. E freghiamocene della Corea. Ora, 15 navi pesanti, 63 fregate, 8 navi da trasporto. Magari l'idea di avere delle Clipper Work Smarter, delle Clipper Transport, altre 4 navi, non mi dispiace, così possiamo portare 12. Quindi 12 per 3 eserciti da 36.000 uomini, direttamente. E qui ci sono Unemployed Craftsmen in Toscana, perché stiamo potenziando l'industria toscana, vero? Penso proprio che questo sia il motivo. Sì, dobbiamo migliorare la fabbrica di vino, perché non si può potenziare? Perché manca il ferro per potenziarla. Però arriverà la fabbrica di vestiti di lusso fra un anno, e quindi si farà il possibile. Ok, ok, va bene. Veloci siamo a 4, allora. Andiamo ad un'occhiata al mondo. Il mondo per il momento non penso che abbia grosse guerre. Ah no, c'è la guerra civile americana, me la sono persa? Oh, ragazzi, è vero, 1863. Però sembra veramente che il CSA, purtroppo per loro, insomma, non ce ne sia, proprio, insomma, pare proprio che i nordisti qui stiano menando i sudisti alla stragrande. Però questa guerra, quando terminerà, trasformerà questo intero continente in qualcosa di molto importante, perché poi il governo federale a Washington inizierà la lunga strada per il dominio del mondo. È soltanto 1863. CIL ha 35 punti di influenza, va bene. Lo teniamo così. Allora, velocizziamo. E voglio controllare se ho la possibilità di migliorare le mie ferrovie. Ma pare che tutto qui vada più che bene. Infatti vedete che adesso le ferrovie sono a livello 3, ad esempio Torino. Se andiamo a vedere in Francia, credo che sia la stessa cosa. Andiamo a Parigi. Ferrovie di livello 3. Ah, missione per civilizzare. Life rating minimo, meno 10, colonia, prestige più 10, diplomatic points più 20%. Iniziamo ad avere l'idea di colonizzare, però credo di non avere ancora tutta la tecnologia per farlo. Berlino addirittura, railroad di livello 2. Se andiamo a San Pietroburgo, probabilmente vanno avanti con i muli. No, hanno un livello 1, ma sono bravissimi. Istanbul, livello 1, eccetera, eccetera. Madrid. Madrid vanno avanti a cavallo, bene. No, ok, siamo una buona potenza. Se adesso ho fatto vedere, a questo punto, la possibilità di mandare una spedizione. Perché no? Life rating 10 e dobbiamo arrivare almeno a 25. Inoltre il level range è quello di Cagliari, 150, d'accordo. Quindi è Cagliari il nostro porto che può arrivare verso l'Africa. E la possiamo espandere. Quando avremo le risorse potremo espandere anche Cagliari. Sì, ma dobbiamo sviluppare una dottrina navale in più. E forse è il caso di farlo presto. Ok, Cile. Inclusive opinion. E siamo a Friendly. Benissimo. Tanto qua vedete che pian pianino la nostra flotta si potenzia. Noi possiamo iniziare a reclutare qualche soldato in più. Vedete che la demografia inizia ad aiutarci. E i socialisti fanno capolino. Fanno capolino i socialisti. 2,1%. Rubano dei voti probabilmente liberali. Ok, Factory Output Efficiency più 1, va bene. Se vado a prendere gli steamer, Naval Base Max più 1, questa tecnologia costa poco e mi permette di potenziare le basi navali. E lo facciamo. Lo facciamo assolutamente. Poi credo che potrebbe essere un'idea quella di andare sul... Dov'è? 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 Arming? Machine Guns. Se non ricordo male, anche questa tecnologia permette di abbassare il life rate. No. Ce n'era una nell'esercito, mi pareva. Comunque, vabbè, lo scopriremo. Combat Week-5. Non era... Sto facendo confusione probabilmente. Sì, penso di sì. Ok. Poco male. Tanto qui vediamo le nostre ferrovie, fiume, ad esempio. Possiamo migliorare. Ottimo. Ok, diamo un'occhiata alla politica, signori. Perché la politica non dorme mai. Allora, i nostri amici tedeschi ci vogliono molto bene. 200, sono in terza posizione, la terza potenza mondiale. Però, militarmente, la Francia è più forte del Regno Unito. Questo è interessante. Regno Unito che, insomma, non ci ha mai voluto molto bene, eh. 115. Francia, invece, ha ottime radiazioni, così come i tedeschi. L'impero russi, invece, è molto tiepido con noi. E la Spagna, la Spagna è neutrale. Ok. Ok. Allora, i focus, clerks, craftsmen, clerks, craftsmen. Sì, stiamo migliorando, insomma, colletti bianchi ed operai nella nostra industria, che però ha sempre 66 punti. Quindi si fa un po' fatica. Si fa un po' fatica anche ad attrarre immigrazione, che purtroppo non arriva mai ad altri paesi. Ma finché non abbiamo i liberali al governo, non penso che sarà possibile, onestamente. Però intanto nel giro, ragazzi, di meno di 10 anni abbiamo portato la popolazione a più di 24 milioni di abitanti. Quindi l'Italia si sta popolando egregiamente. Political Reform Desire, più 5%. Ok. Adesso che abbiamo questa tecnologia, voglio vedere sull'esercito... Se ho la possibilità di guadagnare... Beh, qua io riesco a difendermi meglio. Military Plan, organizzazione, ma anche più consumption. Questi costano relativamente poco. Sul commercio potremmo migliorare l'efficienza delle tasse, ma per ora il denaro non ci... Eh, guardate, Diplomatic Influence più 20% e più 10% al Mining and Farming Output è davvero buono. Questo, tra l'altro, Business Regulation ci darà degli sconti anche sulla creazione di fabbriche. Andiamo adesso sull'economia. Diciamo cose abbastanza... Equilibrate. Equilibrate. In tutto questo, io in teoria potrei andare a potenziare le fabbriche. Wow. Il fatto che posso potenziare le fabbriche in Campania. Sicilia già lo stiamo facendo. In Lombardia... Piemonte, Puglia, Romagna... Insomma, ce ne sono svariate. Tanto andiamo in Cile? Andiamo in Cile, per favore, por favore, aggiunge la sfera. E portiamo il Cile nella nostra sfera di influenza, insieme all'Argentina e la... No, non la Bolivia, ma penso il Perù sarà la prossima. Io clicco sempre sul ferro per vedere chi ce l'ha. La Bolivia ne ha uno, il Perù ne ha uno. Argentine e Cile... Sì, non ne producono tantissimo, eh. 9600 persone, 26.000 persone. Ancora! Non ci posso credere! Pausa! Non ci posso credere! Allora, iniziamo a fare qui in Perù la politica che conosciamo. Azzo però questa volta! Sono arrivati con i cuginetti cattivi! L'Austria adesso arriva per liberare gli Istria, ma ci sono anche i russi questa volta. Ci sono anche i russi questa volta, signori. Non è più la guerricciola così semplice che abbiamo visto, perché adesso la Germania si vede invasa dal Baltico e dalla Polonia da parte dello Zar, da parte di questo popolo espansionista ed aggressivo. E quindi sarà dura, sarà dura difenderci, ma faremo il possibile, chiaramente. Portiamo la flotta là dove sapete e io non so, io inizio a temere che forse possa essere il caso di fare un po' di difesa, però loro prenderanno il loro obiettivo e l'Istria. L'Istria è qua. Facciamo una cosa. Sped in half. Qui mettiamo un leader, un leader buono. Magari vediamo un po' questo va bene e lo mandiamo a Trieste a fare da supporto, nel caso. Quando gli austriaci vedrete inizieranno ad arrivare verso di noi. Comunque dobbiamo migliorare sicuramente la qualità del nostro esercito. Perché se non miglioriamo la qualità dell'esercito non c'è guerra che tenga. Gli austriaci continueranno ad attaccarci. Noi finché non li facciamo implodere non ce ne liberiamo, eh. Non ce ne liberiamo. E qua è un problema però, ragazzi. Qua è un problema. Adesso ci portano 54.000 uomini. Io li devasto in difensiva, chiaramente, ma questi poi tornano. No? Allora, pausa. Vittoria che ci dà 4 punti. Eh, li abbiamo fatto perdere 25.000 uomini. Noi abbiamo perso 10.000 però. Capite che non... Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Intanto la Germania va ad assediare la Repubblica Ceca e adesso inizia ad assediare anche il territorio dello Zara. Questo sarà... Questo sarà un fronte difficile, interessante. Staremo a vedere. Intanto abbiamo un'esperizione per cercare delle cose... Prestigio. Prevalentemente. Intanto l'Italia è la quarta potenza mondiale in termini di prestigio. Non è male. Il prestigio ci tiene molto in alto. Sicuramente più dell'esercito e dell'industria che invece sono un po' da nazione a cavallo tra la grande potenza e la seconda potenza. Però... Si fa il possibile. Si fa il possibile. Do un'occhiata rapidissima all'industria che potrei migliorare. Qui ad esempio guardate che presto arriveremo ad avere il livello 6 della fabbrica d'acciaio dove lo miglioriamo. La Puglia può essere migliorata. La Toscana sicuramente va migliorata. E avanti tutta. Intanto continuiamo ad esportare frutta, pesce e vino. Questo è il nostro export principale. Io vorrei vedere acciaio, vestiti di lusso e mobili di lusso. C'è capito? Voglio vedere un'Italia molto più sviluppata da quel punto di vista. Però si può fare ben poco. Intanto possiamo migliorare le navi a Messina, a Palermo, a Messina, no, scusate a Cagliari, Napoli. Per questo ci permetterà comunque di avere più velocità di costruzione delle navi e anche penso migliori navi possibili. Brindisi, Trieste, ok, va bene. Quindi investiamo anche sui porti. Non male. In tutto questo sembra che l'Austria, ragazzi, si sia fermata. Quindi noi iniziamo quello che facciamo sempre iniziamo a prendere da sedio il territorio austriaco. e questi comunque vedete che se mi attacca la Lubiana ma scusate qui riesco qui riesco con grande destrezza probabilmente ad incastrare a cerchiare e incastrare questo esercito austriaco che si è spinto un po' troppo in là. Peggio per loro. Peggio per loro. Vittoria altri due punti adesso scendiamo a fiume e di nuovo anche qui gli facciamo gli diamo un po' di schiaffetti sul sedere nella speranza che imparino che non ci si comporta così. Giusto? Mi sembra un processo educativo corretto in questa fase del gioco. Ok, benissimo. Volevano prenderci il controllo di questa regione e invece no. Lo prendiamo noi. Lo prendiamo noi e voi vi attaccate. Aspettate che forse riesco a fare uno stack and vipen qua. Vediamo quanti riusciamo a... No, lo stack wipe non esiste praticamente. Va bene. Intanto ogni tanto ci sono tecnologie con piccoli aiuti che arrivano. Mi chiedo se magari migliorando la tecnologia commerciale non riusciamo a deficientare un po' di più l'industria e quindi a renderla più competitiva e quindi a migliorare anche qua il potere dell'industria. Campania regione più industrializzata d'Italia nel 1865 si viene da Piemonte Toscana e poi e poi invece poi niente perché Sicilia Puglia e Lombardia si devono ancora industrializzare. Tanto pluralismo che sale benissimo il pluralismo che sale è tanta roba questo permette di fare migrazione come sempre facciamo oh yeah cerchiamo di portarci verso Vienna direttamente con 70.000 uomini perché se prendiamo Vienna guardate io qui vedo io qui vedo i russi prenderle secondo me se facciamo cadere Vienna in fretta che è fatta allora voglio vedere se adesso riesco riesco ad aggiungere riesco ad aggiungere un world goal non ancora non abbiamo non abbiamo fatto abbastanza game per raggiungere un world goal mi piacerebbe fare rilasciare la repubblica cieca ad esempio per essere un'idea sarebbe una buona idea in realtà tanto siamo già in Ungaria a tenere da sedio tutto we have 6 8 4 5 eh sta salendo pian piano secondo me quando prendo Vienna riesco a fare qualcosa vediamo un'umiliazione qualcosa qualcosa dobbiamo cercare di portare a casa no non ancora niente però comunque andando ad assediare praticamente ecco c'è la pace c'è la pace pace bianca pace bianca va bene come buttare via un sacco un sacco di di progresso con il memorabile aiuto dell'intelligenza artificiale volume 10 miliardi e 450 mila però vabbè la chiudiamo così e nessuno si lamenta dai la chiudiamo così la chiudiamo così dai sono un po' triste nella vita zone in cui io posso fare le colonie con un 15 non ce ne sono devo avere un life rating di 10 in più poi magari guarderò alla fine di questo episodio quali sono le tecnologie che mi permetterebbero di farlo senza grossi problemi fattori questo con il 2% ok allora vediamo un po' abbiamo detto chi è che dobbiamo industrializzare Puglia Sicilia Lombardia ed Emilia iniziamo con queste popolazione Sicilia mi fa i craftsmen Puglia li stessa facendo Emilia mi fa i craftsmen e Lombardia li stessa facendo ok quindi praticamente stiamo andiamo di industrializzare l'Emilia e miglioriamo la fabbrica di cemento ah merda pandemia qui perdiamo un po' di popolazione adesso non ci voleva facciamo il giro per migliorare le relazioni comunque voi russi non mi state simpatici queste cose non me le dovete fare così sotto il naso andiamo nel prossimo in priorità allora il cile può migliorare l'opinione cosa? ah no è già in sfera il peru ragazzi sbaglio tutto è il peru che deve arrivare a 50 per migliorare l'opinione ma adesso abbiamo tecnologie migliori le ferrovie stanno arrivando ok le naval base arriveranno i brevetti e le tecnologie che aumentano il factory input ci sono torniamo torniamo sull'industria torniamo sulla cultura andiamo sull'impressionismo questo ci può dare un bel po' di prestigio anche se costa tantissimo però andiamo andiamo lanciamoci verso l'impressionismo visto che adesso ad economia militare non siamo messi male letteralmente e a questo punto io la prossima elezione ce l'ho a gennaio 1867 provo di nuovo a spingere versi reazionali se non funzionasse tentiamo un colpo di spugna perché adesso in mezzo milione di lire ce lo abbiamo e poi facciamo una campagna di industrializzazione spintissima e la cosa mi dovrebbe funzionare in crisi opinion con il peru ottimo però adesso vado a vedere se adesso vado a vedere a torino il carbone c'è sempre qui iron no iron non ce l'abbiamo e se andiamo a vedere nel commercio anzi scusate nella produzione devo andare che è qua production carbone mi dice che sold domestic 0 sold export 19 non lo stiamo neanche usando tanto l'argentina è fallita e ferro sold domestic 49 sold export 58 ne stiamo producendo molto però è così è così stiamo passando i 25 milioni di abitanti ok ok io quasi quasi di forti non ne voglio più fare qua perché ormai l'aust è diventato un puppet dell'impero russo e lo utilizzeranno contro di noi potrei tentare a questo punto di fare un justify war quando finisce c'è la tregua che potrebbe essere far saltare in aria l'impero austria con tirar fuori austria un veria romania e poi insomma il gioco nell'europa orientale si fa un po' più divertente andiamo su clericalismo verso anticlericalismo più pluralismo partono i voti partono le elezioni e si vede si vede che cosa si può fare perché in Puglia in realtà i clergy scendono perché c'è l'influenza e la gente sta schiattando ecco perché però se andiamo ad esempio in Lombardia vedo che insomma abbiamo 8000 operai su 317.000 uomini allora andiamo su capitalismo di stato per favore laissez faire 5% in più che sfortuna tanto arrivano le ferrovie bene e se io adesso che sto guadagnando tanto alzassi tanto tanto le tasse ai poveri e le abbassassi tanto la classe media che la classe media paga che sono 9% delle tasse intanto andiamo qui sul protezionismo 20% e facciamo incazzare free trade si loro fanno 9 delle tasse questi 100% che poi l'efficienza diventa 31,99 però intanto li portiamo via il 31,99 delle tasse l'idea è quella di fare in modo che i poveri cambino il lavoro diventino degli operai però non so se la cosa è fattibilissima non lo so planned economy 10% 10% della popolazione italiana va per la planned economy questa è tanta roba perché poi votano i votano i reazionari comunque la destra liberale continua a prendere il 99% dei voti ragazzi penso che metterò adesso come capo del governo un reazionario vediamo che cosa succede però lo vediamo nel prossimo episodio per ora vi ringrazio vi chiedo di lasciare un pollice in su e vi do appuntamento alla prossima e vi do appuntamento alla prossima e vi do appuntamento alla prossima